pomeriggio 5 pomeriggio 5 merlino via dentro branchetti la scelta di mediaset trapela una clamorosa indiscrezione secondo cui mirta merlino potrebbe essere sostituita alla guida di pomeriggio 5 i dettagli by luca fabbri pubblicato su 20 settembre 2023 mirta merlino è alla guida di pomeriggio 5 da poche settimane precisamente dal 4 settembre l'ex volto di la 7 ha raccolto la pesante eredità di barbara d'urso e solo il tempo dirà se il cambio al timone del programma pomeridiano si rivelerà azzeccato o meno fatto sta che una recente indiscrezione ha delineato uno scenario che avrebbe del clamoroso mirta merlino fuori da pomeriggio 5 l'indiscrezione sembra che a mediaset siano intenzionati a sostituire mirta merlino nonostante le poche settimane alla guida di pomeriggio 5 questo è quanto riportato da il foglio che ha fornito il nome di chi potrebbe sostituire l'ex la 7 simona branchetti nonché volto di morning news si pensa di sostituire e a stretto giro merlino specializzata e lo dice chi ci lavora nel lancio di asciugamani e tazzine ci sono momenti di panico quando mirta tocca la sua coca cola e si accorge che non è sufficientemente fredda è quanto si può leggere davvero mediaset è intenzionata a sostituire mirta merlino davvero la scommessa fatta dall'emittente viene già data per persa sembrerebbe di no l'indiscrezione riportata da il foglio è stata commentata da giuseppe candela firma di dagospia e del fatto quotidiano che ha precisato tramite post su x fantasia fonti da colonio monzese commentano così l'articolo del foglio che annunciava l'arrivo di simona branchetti a pomeriggio 5 al posto di mirta merlino la giornalista dopo la buona prova a morning news tornerà alla conduzione del tg 5 sembra quindi che mirta merlino possa stare tranquilla non ci sarebbe alcuna clamorosa sostituzione in vista per lei